Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella cosiddetta stanza delle lettere perché il muro accanto a noi è ricco di lettere che sono arrivate solo in un anno qui a San Giovanni Rotondo negli anni 60, questo invece è un altro luogo particolare che raccoglie un po' gli ultimi paramenti che ha indossato Padre Pio durante l'ultima messa, qui oggi per raccontarvi qualcosa di straordinario perché è Padre Pio Capuano con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà che ci racconta questo aneddoto o tanti diversi aneddoti che raccoglie attraverso altri testi. Spesso ci siamo imbattuti in alcuni aneddoti e racconti che hanno visto Padre Pio confessare le persone e soprattutto persone di un'altra lingua, persone straniere, normalmente e lui ci racconta proprio questo, riprende un aneddoto di Padre Agostino da San Marco Illamis dal suo diario e racconta che gli venne riferito a Padre Agostino un fatto che ha dello straordinario, infatti scrive, venne un sacerdote svizzero qui a San Giovanni Rotondo, parlò in latino con il padre, prima di andarsene però licenziandosi col Padre Pio, quel sacerdote raccomandò un'ammalata, il padre rispose poi in tedesco lo raccomanderò alla Divina Misericordia, ecco Padre Pio parlò in tedesco, a quel punto il prete rimase oltremodo meravigliato dal fatto che di quello che era accaduto poi lo raccontò alla persona che lo ospitava e questo è Padre Agostino da San Marco Illamis che nel suo diario ha raccontato questo episodio, ma un'altra testimonianza che ci viene qui oggi da raccontare e condividere con voi e che Padre Pio Capuano ha voluto scrivere e raccogliere nel suo libro è stata resa nota da un altro frate con fratello di Padre Pio importante perché ha dato anche un input fondamentale per la causa, per l'epistolario, ecco ma è venuto a mancare nel 1980, parliamo di Padre Lino Barbati da Prata, siamo in provincia di Avellino scrive Padre Pio Capuano che lui nell'andare a dare questa testimonianza lo ha giurato sul crocifisso, episodio che gli venne raccontato da Luigi Loviscovo, parroco di Beltiglio di Ceppaloni, siamo in provincia di Benevento, il 29 giugno del 1977 e questi racconta, vado sul virgolettato, l'ex padre Ruggero da Sant'Elia Pianisi, frate minore Cappuccino che pensava alle prenotazioni qui in convento delle confessioni degli uomini di Padre Pio, un giorno si trovò con cinque austriaci che non conoscevano neanche una parola in italiano e insistevano però di volersi confessare con Padre Pio, nonostante le rimostranze proprio di Padre Ruggero il quale voleva, scrive Padre Lino da Prata, voleva toglierseli di torno, li fece andare subito dal Padre Pio sicuro che li avrebbe immediatamente mandati via perché lui non conosceva la loro lingua, se non che il primo stette del tempo per confessarsi da Padre Pio e uscendo sorrideva, manifestando poi la propria contentezza ai connazionali che uno per volta entrarono nel confessionale ed ebbero la stessa gioia. Stando in giardino, scrive Ero anche io presente, qualche giorno dopo il Padre Ruggero chiese a Padre Pio, ma come avete fatto a confessare quei cinque austriaci che tra l'altro uscivano tutti sorridenti dal confessionale, padre? E Padre Pio rispose, vado sul virgolettato, guaglio, quando voglio capire capisco e così mutò il discorso. Grazie per la visione!